Spoltore e Montesilvano si dividono la posta in palio in un delicato scontro salvezza. Dopo un primo tempo bloccato, la partita si infiamma nella ripresa, regalando grandi gol e tante emozioni. La prima occasione è per gli ospiti. Sanguinosa palla persa da ventola, Maloku calcia benissimo, ma la risposta di Pelusi, aiutato anche dalla traversa, è strepitosa. Lo spoltore reagisce poco dopo con Ranieri, che sfrutta la sua abilità nel gioco aereo per mettere in porta Padovano, nel numero 11, però colpisce malissimo. Con il passare dei minuti crescono i padroni di casa. Al ventiduesimo il Montesilvano non si fa trovare pronto su una rimessa laterale, che porta al tiro Mancini. Il suo diagonale termina al lato di un soffio. Al quarantesimo, invece, l'opportunità nasce da una bella azione manovrata, conclusa da Camplone, bravo nell'inserimento, meno nel tiro con il piattone. Il secondo tempo parte come il primo, altra palla persa dallo spoltore sulla trequarti e altra bella parata di Pelusi su Sammaciccia. Al sesto si sblocca il risultato. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo viene allontanato il pallone, immediatamente riconquistato da D'Alessandro, tra le proteste dello spoltore per una presunta trattenuta. L'arbitro lascia giocare e il terzino ospite fa partire un destro, imprendibile per Pelusi. Ronci cambia subito l'assetto tattico, inserendo un attaccante in più, ovvero Polisena, e il suo ingresso in campo cambia la partita. Al sedicesimo Ranieri finisce giù in area dopo un contatto con Barbarossa, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Due minuti più tardi però il numero 9 sfrutta l'assist proprio di Polisena, trovando il gol dell'1-1. Dopo il pareggio lo spoltore continua a premere sull'acceleratore alla ricerca del vantaggio. Al ventitresimo il Montesilvano si fa trovare completamente scoperto in contropiede, imbucata no look di Polisena ancora per Ranieri, a tu per tu con Mastro Girolamo e il portiere ospite a vincere il duello. Il 2-1 però è nell'area e arriva due minuti dopo, ancora protagonista Polisena che di testa deve in porta il cross tagliato di Ventola. Dopo il vantaggio lo spoltore sembra in controllo della partita e non concede occasione al Montesilvano, ma al quarantesimo De Marchi si inventa il gol del pareggio mettendo il pallone all'incrocio direttamente da calcio d'angolo. In un confuso finale di partita entrambe le squadre sfiorano il gol vittoria. Lo spoltore alza il muro su una doppia occasione del Montesilvano, poi va vicino al 3-2 sul solito cross tagliato di Ventola sul quale deve intervenire Mastro Girolamo. Un punto a testa alla fine che non accontenta nessuno per quanto ha i due tecnici soddisfatti delle prestazioni.